Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si fanno a rimuovere per esempio dei suoni non voluti o del rumore da un file audio con il programma Audacity o Audacity come si vuole pronunciare. Allora facciamo così, noi abbiamo questo file WAVE, cane che abbaglia con la motocicletta, l'apriamo e lo sentiamo un attimo. Sentite, ci sono due eventi, il cane che abbaglia e la motocicletta. Ecco questo, quindi il cane che abbaglia risulta essere un disturbo, questo è un file audio, le caratteristiche sono di 8 kHz per 32 bit, un campionamento di 32 bit, dura 14 secondi, è molto breve, vedete neanche un megabyte. Allora noi che cosa facciamo? Apriamo Audacity, che è questo programma qui che è fatto apposto proprio per il ritocco e il montaggio dell'audio e andiamo nel menu apri e apriamo il nostro file, cane che abbaglia con motocicletta. Gli diciamo di leggerlo automaticamente senza fare una copia per fare prima semplicemente per essere più veloci in questo video. Vedete questa è la forma d'onda, si intuisce benissimo che c'è una diversità, queste forme d'onda sono il cane che abbaglia e questa qua è ovviamente la motocicletta. Allora facciamo così, sentiamolo un'altra volta. Sentite, si sente il cane che abbaglia sotto la motocicletta. Questo è un audio editing, un audio ritocco molto semplice. Che cosa dobbiamo fare in questo caso? Siccome questo è un cane che abbaglia semplicemente noi andiamo nel menu seleziona, facciamo tutto, poi nel menu effetti andiamo all'interno per esempio di questa opzione Vocal Remover e semplicemente clicchiamo ok. Ed ecco che se noi lo sentiamo adesso, sentite, il cane è sparito. Praticamente il cane è sparito. Noi possiamo anche mantenendo la selezione amplificarlo un pochino, facciamo amplifica e diciamo consente il clipping, cioè consente il peggioramento diciamo del volume, della qualità chiedo scusa. Sentiamo, aumentiamolo ancora un altro po', perfetto, anche se viene un pochino esagerato. E noi sentiamo che l'audio del cane non c'è più. Questo è l'audio, sentite, con l'audio di tocco, scusa con l'audio editing. Praticamente il cane è stato tolto, mentre questo è l'audio originale. Sentite? Quindi diciamo l'effetto è di qualità. Il cane è stato, siccome capita spesso che ci siano degli auli con sotto il cane, ecco se noi andiamo ad Audacity, apriamo questi file WAVE e utilizziamo questo filtro che è il Vocal Remover, ovvero praticamente il cane viene eliminato quasi completamente, non si sente, e si sente soltanto l'evento preferito. Bene, il video finisce qui, quello di oggi, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia. Grazie a tutti.